Siamo appena arrivati a Riad, come va Andrea? Benissimo, c'è un'aria che è svilionante. Quanti gradi circa? 52, 54. Ottimo, vabbè comunque... Sì del pomeriggio. Sì del pomeriggio 52 gradi. Vecchiavento 7 km l'orario. Grazie anche per la velocità vento. Altitudine 0,5 km di mare. Mi ha presentato una volta un personaggio, un'altra compagno di voi, una persona. Lui posa le costruzioni con ceramiche, queste vite, le mosaici, tutti d'oro. Solo d'oro. Sono i figli, il marco, il carnavo, la ragazza, sono i tre mesi, poi dopo sono i tagli a un mese nella famiglia, poi riparto. Insomma, una vita al servizio del lavoro, in varie dimensioni. Sono lei, sono qui. Sì del rischio di scherzo. Adesso siamo un po' più a Riyadh. Adesso anche... Nel aeroporto. Non so di dire che qua è il suo benvenuto nel... Google e Google e Google. Ah, così la chiamate? Il Google e Google. Qua è? Che iniziano un posto bene.